eppure chi di noi potrà affermare di aver scoperto la verità tra tante ipotesi che si presentano ai ricercatori in interpretazioni così diverse da poter affermare questa era l'intenzione di Mosè e in questo senso volle che fosse inteso il suo racconto con la stessa sicurezza con cui afferma vero il racconto qualunque fosse l'intenzione di Mosè ecco dio mio io tuo servo che ti ho promesso in voto il sacrificio di queste mie confessioni e che prego di poter soddisfare con la tua misericordia la mia promessa verso di te ecco io affermo con la massima sicurezza che tu hai creato nel tuo verbo immutabile tutte le cose invisibili e visibili posso affermare con la stessa sicurezza che Mosè pensava a questo e non ad altro mentre scriveva in principio dio creò il cielo e la terra io non sono sicuro di vedere che nella sua mente egli abbia avuto questa idea come vedo invece nella tua verità la certezza della prima affermazione poter forse pensare all'inizio della creazione quando diceva in principio e quando scriveva cielo e terra forse voleva che si intendesse la natura sia spirituale sia corporea non formata e perfezionata ma in entrambi i casi appena abbozzata e ancora in forme capisco che con quella espressione si possono intendere sia un'ipotesi che l'altra ma io non riesco a vedere quale delle due intendesse so con certezza comunque che quel grande uomo ha contemplato nella sua mente qualunque delle due o forse anche altre di cui io non ho parlato quando proferì queste parole io so che egli vide la verità e la riferita nel modo giusto